In Sicilia sono 5.800. Alcuni di loro hanno cominciato da precari e da precari sono andati in pensione, o meglio, vista la scarsa consistenza dell'assegno, hanno lasciato il lavoro. È una storia di precariato di lungo corso, quella dei lavoratori ASU, precari della pubblica amministrazione. A Ragusa hanno protestato dinanzi alla sede dell'ASP. Per l'ennesima volta chiedono la stabilizzazione. Del resto ci sono servizi che vengono espletati unicamente in virtù del loro apporto. Noi abbiamo tutti i doveri di un lavoratore normalissimo, ma non abbiamo gli oneri, nel senso che a noi manca ciò che hanno tutti gli altri, quindi il diritto alla malattia, il diritto alle ferie e quant'altro, quindi tutto quello che hanno anche gli altri. Per noi non di meno, ci mancano anche i contributi, quindi praticamente per i nostri 20 anni e più di lavoro è come se non avessimo mai lavorato per lo Stato. Quanti siete in provincia di Ragusa? All'ASP siamo 143 circa. Rivestiamo ognuno dei compiti abbastanza importanti. Basta precisare che molti uffici per gli utenti, quindi uffici ticket, uffici cup, il call center, sono stati chiusi in questi tre giorni per mancanza del personale ASU in sciopero. Abbiamo ricevuto tantissimi buoni risultati, diciamo, perché ognuno di loro ci ha dato la certezza di starci vicini e di dare il loro contributo per la nostra causa. Tutto ciò in attesa che l'ARS prenda una decisione di eseguire le leggi che già esistono. Quindi praticamente la legge c'è, adesso aspettiamo che venga messa in pratica. Esattamente quali sono comunque le prospettive che ci sono di risolvere questa avvertenza? Abbiamo tanta fiducia che tutto quello che ci è stato detto, ci è stato anche promesso da diverse persone, riesca ad aprire le menti di chi non vuole più che 5300 siamo in tutta la Sicilia, 150 siamo qui all'ASP. Non ci giudichino più come persone in più nel nostro posto di lavoro, perché di fatto non lo siamo. Noi svolgiamo dei compiti molto importanti, lo facciamo con tanta onestà e tanta responsabilità, timbriamo regolarmente la mattina, andiamo via col cartellino senza fare i furbetti, perché noi teniamo il nostro lavoro e quindi rispettiamo il nostro lavoro e vorremmo anche che venissimo rispettati anche noi.